Musica anche perchè l'anno scorso siamo atteggiati a Roma con l'estate e questo è stato il torneo NICEA quindi quest'anno vediamo un po' l'inversione della comunità Io sentirei i tre figli, se ci vuoi fare La solita cosa, divertirci e sperarvi di Dio E' giusto, e quindi non possiamo farlo che augurarti buona cottura e per questo nuovo anno per organizzare la mia scuola e per questa direzione delle vostre scuole Grazie Allora, qui siamo ora nel momento di questo torneo che è una squadra, la squadra che è una meta squadra che ha tra di noi, il gruppo anche, il tante è formato anche per qualche modo Penso che possa venire veramente una cosa bella e può essere una cosa bella e di sicuro contiamo le finale e penso che siamo in grado Abbiamo un grande elemento in squadra però secondo me è la squadra totalmente però non è interessante non contiamo sul singolo ma contiamo su tutta la squadra Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti